Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! C-L-U-G-O-Z-Z-I-N-U-N-S-I-T-O-C-C-A-A-A! Devi vendere tristata da là per forza. Ah, ho capito, ho capito, zi. L'intelligenza artificiale è più, più, migliore di un videogioco. No. Ho capito. Oh, coddio! Cosa è? No! Ma che cazzo di cosa... Il re... Vabbè, non c'è bisogno di salvare, veramente. Porco di Dio, Cristo maledetto! Ma che cazzo è? Ma scusa, ma se non c'ha la batteria, perché zio porco c'ha gli occhi veri, gli occhi bianchi? O in un altro modo, dobbiamo prendere. Comunque è strano, perché è andata palesemente da questa parte, quindi... Ma che lascia? Cosa lasci? Cosa lasci? Cosa lasci? Cosa lasci? Jammo devi fare come ti ha fatto fare Silverio prima. Prima il palo sotto riprendendo... È l'ora di figure il tuo posto nel mondo che avevi lasciato. Un mondo che è loro ora. Benvenuti a casa. Ho capito, zi, ma che cazzo significa? C'è, ma uno non poteva manco spostarsi. Che si dà i grattini sui piedi, sui garetti? Zanzò. Jammo ha rischiato di prendere in frontale Jimmy. Io ho schivato. Che comunque Jimmy non... Madonna ragazzi, state scherzando, gamba. Sto ritardando perché sì, porco cazzo. Ti levi dai coglioni, po' di dio. Abbiamo fatto cade col furo. Ti levi dai cazzo. Gamba, stai scherzando. Bro, ma stuona. Sono ancora vivo. Chi era cazzo? Il tempo della vita mia perché un ritardo... No, è vero di merda. Pezzo di merda coglione. Bastardo pidocchioso. Oddio che ho salvato, zio, zio, zio. Chi forzo maledetto, impenitente. Apposta, mi mi addosso. Addosso, apposta. Il momento di andare a piccacarti in mano. Che è sta musica? C'è la musica, non sento... Silverio è il vero re di questo gioco. Ok. La cacca! Guarda in alto. Leo, grazie per i venti. Bentornato. Tommaso, grazie per il sub giftato. Chebo, grazie per il sub. Dani, grazie per il sub giftato. Cut and up sta arrivando. No, bro. Cut and up dovrebbe risolvere il glitch. No, io spero che adesso lei spawni. Abbiamo un grande problema. Un problema... Grande. Bene di Siffredi. Problema massiccia. Perché se adesso resta... Guarda questo coso, fammi rimettere il lanciarazzi base. È b***o, Carlo. È suicidato? Tommelur si è suicidato. No, 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 no. Mi sono suicidato ma ho portato con me Manuxo. Ci siamo traddati. Scambia mare, scambia mare. Come dicevamo fare... È una virgola dopo! Ma no, no, no. Fascidato! Cosa lasci?! Cosa lasci?! Cosa lasci?! Cosa lasci?! il resto sveglio a dinneggiarti bellissimo stavo cagando fino a dieci secondi fa adesso appena attaccato guarda aspetta apro tik tok non ho fatto in tempo ad aprire tik tok e vedo gabbo che cambia immagini di profilo vuoi sapere che canzone ha messo tutto faccetta nera cento per cento senti bene vuoi approvare lo splattos del chocas durante una settimana 15 minuti da quei 10 minuti quasi quei 5 minuti quei 5 minuti da gameplay horror che comunque ti fanno cagare in mano perché ti fanno cagare in mano rilascia e tieni premuto e easy k e kv w e prendi la scia me prendi la scia e mi superi 2 volte che lo prendo ma stiamo doppiando a me porco dio a me ma pesce ma vai a 3 vado porca madonna che culo è questo madonna porco dio ma basta lo streamer se quando guardi il mondo oggi di cosa pensi che abbia più bisogno? soldi soldi per me una volta chiesi un po' in giro è una cosa buona quella di arrivare secondo nel torneo dei top rimasti cioè non dovete essere felici di una cosa del genere però è apprezzato ha apprezzato e siamo felici che abbia apprezzato un saluto a Enrico Arlandini per favore smetti di stalkerare Karen però perché la ragazza è veramente un po' inquietata più piano Enrico veramente un po' più piano grazie Petrus grazie per le tue giftate grazie